Secondo te ce la faremo? Non vedo perché, no. Tu non provi niente per me, vero? Niente in particolare. Oh, senza offesa, naturalmente. Senza offesa, naturalmente. Tu per me, sentimenti? Ti penso a malapena. Mi sembra perfetto. Allora, che facciamo adesso? Posso togliermi i pantaloni? Forse prima dovremmo baciarci. Sì, è una buona idea. È l'incantesimo? Non lo so. Io non lo so, non mi interessa. So solo che nel novembre di quest'anno quattro adolescenti hanno pernottato in un bosco stregato per girare un ridicolo documentario per una lezione di storia. E otto ore dopo due di loro si stavano baciando. Era... Strano. Sì. Proviamo ancora? Ok. 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 E questo com'era? Va sempre meglio. Ah. Mesi! Ah! Corri! Sì! 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 La porta! Dobbiamo uscire di qui! Non si apre! Dai! Avanti! Così vado a spingere la forza! Sì! Parenetta! Adesso possiamo andare a casa. Sentite, non mi importa se devo nuotare. Vi prego, scappiamo subito di qui. Ci deve essere una spiegazione logica a tutto questo. Ok, perché non ci mangio le cartoline, signor Spock? Perché io non resto qui a scoprire qual è. Andiamo! Correte! Di qua! Attenta! Presto! E lì c'è la barca! Sprichiamosi! Va bene, ci siamo! Attenti, attenti! Prendi la cima! Vai, 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 vai! Salite! 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 Salite!